Due feriti gravi, traffico in tilt ed un secondo incidente causato dai rallentamenti del primo e questo il bilancio di un ordinario lunedì di follia lungo l'A21 Torino-Piacenza. Sono gravi le conseguenze del tamponamento fra un furgone ed un mezzo pesante attorno alle 11 di questo lunedì mattina all'altezza di Porzano, comune di Leno in provincia di Brescia. Dopo aver tamponato un camion che lo procedeva a un furgone si è ribaltato, i soccorsi sono stati allertati immediatamente. In posto sono arrivate tre ambulanze e l'elisoccorso. L'autista del furgone è rimasto incastrato fra le lamiera cartocciate del mezzo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Particolarmente complicate le operazioni, l'autista e il passeggero a suo fianco sono quindi stati affidati alle cure dei sanitari e trasferiti il primo all'ospedale di Manerbio con l'eliambulanza, il secondo al civile di Brescia in codice rosso. Imposto per i rilievi la polizia stradale, al lavoro nel fine settimana in tutta la provincia anche per i controlli stradali. Nel fine settimana intanto anche la squadra e della volante della costura di Brescia hanno svolto un'intensa attività culminata con l'arresto di quattro persone in città. Un 28enne che ha cercato di eludere un controllo fuori da un bar che aveva con sé 80 grammi di hashish. Nella rete delle volanti sono finiti anche un 66enne e un 43enne trovati con una cassaforte appena scardinata da un negozio ed un terzo uomo trovato con l'anesia scasso e rifurtiva. Le operazioni sono scattate dopo le richieste di intervento al 112 che ricordiamo è il numero unico per le emergenze. Grazie a tutti.